Nuovo ospedale di Andria, critico l'europarlamentare Francesco Ventola che ribadisce la realizzazione del progetto grazie ai fondi stanziati dal governo nazionale. Torna all'incubo del ride delle baby gang a Bari autodistrutte e sassaioli nella zona del parco Maugeri e nel rione Libertà, continue scorribande nonostante le segnalazioni fatte dai cittadini. Caro cercatore, ho preparato questo messaggio in una bottiglia per te, per favore scrivimi e questa missiva scritta da una bambina tedesca due mesi fa, dalle coste greche, chiuso in una bottiglia e affidato alle onde del mare. La missiva è stata trovata a Mola da un 31enne, operatore ecologico e il sindaco ha invitato la piccola in città. Ben ritrovati, edizione come dicevamo di Bari Battefoggia, Tg provinciale di Antenna Sud, dunque in apertura uno dei temi più ricorrenti nel corso degli ultimi giorni, la siccità che sta penalizzando soprattutto il settore agricolo. Andiamo in terra d'Auna, vicino a Foggia, dove ne sta risentendo la produzione di pomodori. Vediamo in quale misura nel servizio di Antonella D'Avola. Al via la raccolta del pomodoro da salsa in Puglia con l'incognita siccità che lascia i produttori nel limbo, sia sul fronte della quantità della produzione che sui prezzi. Ad affermarlo è col diretti in occasione dell'avvio della raccolta a livello nazionale partita da Foggia, dove si coltiva quasi un quinto, il 19% dell'intero raccolto nazionale, con la notizia ufficiale dell'imminente chiusura della diga di Occhito, il più grande invaso artificiale della regione, a causa della carenza di piogge che rischia di compromettere la produzione. La Puglia è il principale polo della salsa made in Italy nel mezzogiorno, con oltre 19.000 ettari concentrati per l'87% proprio a Foggia, leader nel comparto. Apriamo oggi ufficialmente la raccolta del pomodoro d'industria di Capitanata, che è l'eccellenza della nostra provincia e della nostra regione. Un pomodoro che vede delle superfici in leggero aumento, compensate però da un leggero calo di produzione. L'inconita vera però il grande punto interrogativo sarà la mancanza d'acqua. Più o meno intorno a Paragosco aspettiamo l'ufficialità della chiusura della diga di Occhito, il più grande bacino idrico della Capitanata, è libera di questo problema. Avere o non avere l'acqua per portare a compimento a fine ciclo i nostri pomodori fino a fine settembre, cioè nei prossimi 60 giorni. L'inconita è quella, non sapremo come affrontare questa campagna di pomodoro che arriva, che apre oggi e soprattutto non avremo l'acqua nemmeno per poter piantare gli ortaggi autunno-vernini che si raccolgono a novembre, dicembre e poi, ma che si costruiscono con i trapianti di agosto-settembre. Senza acqua ovviamente non ci sono trapianti, non c'è agricoltura. Parliamo adesso del nuovo ospedale di Andria sulla cui realizzazione sboccia l'ennesima polemica politica ad intervenire l'europarlamentare Ventola, il quale tiene a sottolineare che i fondi per la realizzazione di questa struttura sanitaria importante per la BAT provengono dal governo nazionale. Sentiamo Andrea Catino. La vicenda e il lungo percorso del nuovo ospedale di Andria continua ad animare il dibattito politico nella stessa provincia pugliese. A circa tre anni dalla presentazione del progetto, il governo nazionale ha rifinanziato l'iniziativa con 318 milioni di euro messi a disposizione della regione. Fortemente critico l'europarlamentare di Fratelli d'Italia, Francesco Ventola, che ha evidenziato le criticità della sanità pugliese, sottolineando come in questo scenario la BAT sia la cenerentola della regione, ponendo dubbi circa le nuove tempistiche prospettate dalla regione della Asla. Il governo ha garantito le risorse per la realizzazione, ma come ci si arriva in quell'ospedale? Non c'è ancora un piano di viabilità, non ci sono le risorse per la realizzazione delle infrastrutture, delle urbanizzazioni, ragion per cui quando qualcuno parla di qualche mese o di 12 mesi già mi sfaventa. Significa che probabilmente, mi verrebbe da dire se continua così, nemmeno i nostri fili lo vedranno. Bisogna lavorare su due livelli. Uno, una tax force che si dedichi esclusivamente a questo, dipendenti della regione che dalla mattina alla sera pensino solo ed esclusivamente alla realizzazione del progetto esecutivo e a bandire la gara d'appalto. Significherebbe mettere a disposizione 5-6 persone e i tempi si accorcerebbero. Parallelamente la politica deve allocare le risorse per realizzare tutte le urbanizzazioni che non sono finanziate dal governo, ma deve essere finanziate dal bilancio autonomo. Una regione che non riesce più ad avere i numeri per approvare i punti dell'ordine della regione più importanti, tra cui proprio quello del bilancio, mi spaventa. Ecco perché credo che ci debba essere un cambio di rotta. Il cambio di rotta lì si può avere solo se qualcuno ha il coraggio di alzare la mano, chiedere scusa politicamente e lasciare passo. Da Andrea Barletta all'ospedale di Miccoli per parlare della nuova piastra oncoematologica. Antonio Gargano. Quasi 9 milioni di euro per la nuova piastra oncoematologica dell'ospedale di Miccoli di Barletta. L'ultima riunione in commissione regionale ha confermato che l'ASL della BAT potrà utilizzare 8,9 milioni di euro per la realizzazione dell'impianto medico frutto di un finanziamento ex articolo 20. La struttura sorgerà nell'area adiacente agli uffici amministrativi del nosoccomio barlettano e avrà un'estensione di 2.500 metri quadrati. Per quanto riguarda l'ospedale di Miccoli di Barletta è inserito nei 17 interventi finanziati nell'accordo di programma con circa 9 milioni di euro. Questi 9 milioni di euro saranno tutti destinati alla realizzazione della nuova piastra oncoematologica che prevede appunto un potenziamento della vocazione oncologica dell'ospedale di Miccoli di Barletta con 16 nuovi posti di oncologia e 20 nuovi posti di ematologia. Tutte le risorse sono già disponibili e l'ASL pubblicherà il bundle per la progettazione l'ultima settimana a fine agosto. Oltre ai posti letto in oncologia ed ematologia sono previste 30 poltrone di infusione oncologiche, 12 ematologiche, 4 sale per i trapianti a fronte delle attuali due, 4 ambulatori e 2 sale d'attesa la Regione Puglia, implementerà la strumentazione con nuovi fondi. Tutta la strumentazione, tutti gli apparecchiature, i nuovi servizi che erano stati finanziati all'interno di questa misura, la Regione si è impegnata a coprirli con altre risorse che ha già individuato e ha già stanziato a favore dell'ospedale di Miccoli di Barletta. Penso alla nuova risonanza magnetica, penso al ripristino e rifunzionalizzazione delle sale operatorie e tutta una nuova serie di servizi, quindi da questo punto di vista le risorse sono già disponibili. Le temperature restano altissime su tutta la Puglia, anche sulla Basilicata. A Bari c'è il piano operativo straordinario per il contrasto alle ondate di calore e la tutela di persone fragili e anziani. Diverse le emergenze da affrontare legate al caldo, non solo salute fisica ma anche la solitudine, come ci spiega Ilaria del Vino. 815 accessi agli sportelli del Segretariato sociale di Bari nell'ultimo mese. Il piano operativo 2024 del Comune a contrasto delle ondate di calore sta funzionando bene e i numeri dimostrano una più capillare conoscenza dei servizi di assistenza e tutela degli anziani e delle persone fragili in questo particolare periodo dell'anno. Un utilizzo notevole rispetto ai 293 accessi del 2023. Anche il numero dei pasti serviti dalla Caritas diocesana e dai servizi welfare comunali è in costante aumento. Durante le giornate più calde del mese di luglio, attraverso i servizi di prossimità, sono state distribuite 2000 bottigliette d'acqua, persone senza dimora e anziani in piazze e strade e integratori e sari minerali in rete con Federfarma. La macchina non si ferma. Un piano straordinario per monitorare e fronteggiare gli effetti delle ondate di calore, non soltanto per l'effetto diretto che ha sulla salute, specialmente degli anziani e delle persone più fragili, ma anche sulle conseguenze psicologiche. All'emergenza caldo sono legate altre emergenze e questo infatti è un periodo in cui aumentano le richieste di aiuto antiviolenza. Si sa che in questi periodi in cui si sta più tempo a casa e più tempo insieme certe situazioni e certi conflitti diventano molto più forti. Due i numeri da ricordare. Pronto intervento sociale, un numero verde che è 800 093 470. È anche un periodo particolare anche per le segnalazioni al centro antiviolenza, ricordiamo anche il 1522. E allora la cronaca, lo dicevamo nei titoli, torna l'incubo del raid delle baby gang a Bari autodistrutte, sassaiole nella zona del parco Maugeri e nel rione Libertà. Continua le scorribande nonostante le segnalazioni ripetute da parte dei cittadini. Non mi sembra che ci siano atti vandalici, è abito qua vicino, tranquillo. Neanche di notte? Neanche di notte. Violenze e atti vandalici soprattutto la sera e quello che avviene al quartiere Libertà in particolar modo nella zona del parco Maugeri. A dispetto di quanto dichiarato il primo signore intervistato, la realtà pare ben diversa. I vigili ci sono, ma è come se non ci sono. I telecomici ci sono, ma è come se non ci sono. E loro ne approfittano. Che ti devo dire più? Di notte soprattutto le principali denunce, secondo lei cosa si può fare? Cosa si può fare? Incatenare questi quattro delinguenti in casa o far pagare ai genitori le conseguenze? Ciò che non succede ancora. L'hanno fatto alla legge, ma dov'è? Non è solo nel parco, ma pur per la strada. Soprattutto di notte, cosa è che manca? La soffiglianza, non c'è nessuno. Non vedo una battuola, niente. Lei è un po' preoccupato? Preoccupato no, però dobbiamo convivere così. Ogni tanto si sente, lui opta al primo pieno, si sente un po' di chiasso. Noi siamo anziani, il marito è male, ce l'andiamo sotto e sopra, non sappiamo niente. Però siete spaventati o ci convivete? Ci conviviamo, tanto i giorni di oggi sono così. Pochi controlli la sera o addirittura assenti. Una situazione sicuramente da monitorare e migliorare. Tuttavia c'è chi prova comunque a vedere il bicchiere mezzo pieno. Occasionalmente mi sembra tranquilla la zona, non ho delle grosse difficoltà. E adesso andiamo nella batta a San Ferdinando di Puglia. Le forze dell'ordine alla festa dei diciottenni per sensibilizzare i più giovani alla sicurezza stradale. La testimonianza diretta del militare Ferdinando Giannini e le raccomandazioni della polizia stradale. L'importanza della sicurezza stradale è spiegata ai più giovani durante la festa dei diciottenni a San Ferdinando. L'iniziativa che ha coinvolto la questura della batta insieme a Polstrada, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, con gli agenti e i militari che hanno illustrato i rischi di una guida non conforme anche attraverso esperienze dirette. Questa serata nasce proprio per sensibilizzare i ragazzi alla guida sicura perché molto spesso ci si lamenta degli incidenti ma poi l'imprudenza è alle stelle. E appunto noi cerchiamo di, come ben si vede, ad operare i sistemi per cercare di sensibilizzare il più possibile i ragazzi alla guida sicura, stare attenti a non distrarsi perché poi la prima causa degli incidenti è proprio la distrazione. Proviamo a stimolarli e a far sì che nasca in loro proprio la voglia di avere più attenzione perché la vita è importante, la vita è preziosa ed è unica. Un evento di sensibilizzazione che ha visto la partecipazione dell'amministrazione comunale di San Ferdinando nell'ambito del progetto Luoghi Comuni con la collaborazione di Cecilia Onlus e Regione Puglia. Un messaggio forte e diretto ma necessario alle generazioni che si affacciano alla guida. Il nostro obiettivo è quello di arrivare ad una mobilità senza vittime e quindi parlare ai ragazzi significa fare la cosa più importante, cioè cambiare la mentalità delle persone in modo tale che il ragazzo che si sta per approcciare a prendere la patente oggi sarà domani un automobilista consapevole. Gli parleremo dei rischi, dei rischi a cui vanno incontro facendo uso di alcol prima di mettersi alla guida. Gli parleremo dei rischi a cui vanno incontro distraendosi non soltanto alla guida di un'autovettura ma anche alla guida di un motorino oppure anche quando sono semplicemente dei pedoni. Insomma, gli faremo capire quanto sia nefasta la distrazione per un utente della strada. Ed ora andiamo a Terlizzi dove c'è stata la cerimonia di inaugurazione di un nuovo sottopasso. La città di Terlizzi finalmente ha il suo sottopasso. Si tratta di un'opera importante e necessaria perché senza l'eliminazione del passaggio livello qui sarebbero a breve transitati circa 200 treni e la città sarebbe stata bloccata. Si tratta di un progetto venuto da lontano e che ha conosciuto diverse vicissitudini come è stato spiegato nel corso dell'inaugurazione. Dopo un inizio credo 2007-2008 da parte dell'amministrazione Vendola praticamente nel 2014 era tutto perduto nel senso che per varie vicissitudini erano scaduti i finanziamenti, non erano stati utilizzati e devo dire che è stato merito dell'assessore Gianni Giannini e della Regione Puglia con testardaggine riallocare immediatamente il finanziamento sul quadro di finanziamento successivo e quindi proseguire di slancio. È un'opera che migliorerà la viabilità urbana e garantirà come ha sottolineato l'assessore regionale Trasporti Deborah Ciliento maggiore sicurezza. Andiamo a completare un progetto che trova fondamento storico visto che ha conosciuto diverse fasi, diversi cambiamenti ma finalmente doniamo alla città di Terlizzi quest'opera che ha trovato compimento che sicuramente avrà ancora un proseguo ma che riusciremo a capire nelle programmazioni dei prossimi giorni. Per il sindaco Michelangelo De Chirico il sottopasso non è un punto di arrivo ma di partenza. È un bellissimo momento per tutti quanti noi ma non è un punto di arrivo è un punto di partenza perché auspichiamo che la regione Puglia possa con la ferrotranviaria prolungare il sottopasso verso la strada Terlizzi-Mariotto in modo tale da completare l'opera ed evitare alcune criticità che si porranno nella zona artigianale di Via Favale. Si tratta del terzo passaggio livello che viene chiuso come evidenziato nel suo intervento Massimo Nitti di ferrotranviaria. Riusciamo a rendere fruibile quest'opera che darà un grande respiro alla circolazione nell'ambito della città di Terlizzi. E ancora lavori pubblici. Entro il 2026 termineranno gli interventi per la fermata ferroviaria in corrispondenza dell'ospedale di Barletta. Un nuovo snodo per chi avrà l'esigenza di raggiungere il nosocomio della sesta provincia. Lo ha comunicato RFI che nelle scorse ore ha affidato l'opera. Maria Fiorella. È stata giudicata da RFI la gara d'appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione della nuova fermata ferroviaria e ospedale di Barletta che sorgerà fra la stazione di Barletta e la fermata di Canne della Battaglia sulla tratta Barletta Canosa di Puglia. I lavori termineranno entro il 2026. Lo rende noto rete ferroviaria italiana che ha affidato l'opera alla ditta Doronso Infrastrutture SRL. La fermata per un investimento pari a 22 milioni di euro sarà creata sulla tratta ferroviaria Barletta Canosa di Puglia e sarà dotata di un parcheggio di circa 140 posti auto, di una fermata bus o navetta e di un terminal per la sosta bus a lungo termine. Il progetto prevede anche un percorso pedonale protetto attrezzato con sistemi di schermatura solare, di arredo urbano per il collegamento diretto con l'ingresso dell'ospedale e di percorso ciclabile per il collegamento con il sistema di modalità ciclabile urbana già inserito nel piano urbano di mobilità del comune di Barletta. La fermata costituirà un nodo di interscambio modale treno-bus, treno-auto privata, treno-bici in linea con gli obiettivi del piano di integrazione con gli altri sistemi di trasporto. La fermata garantirà un collegamento ferroviario metropolitano con la stazione di Barletta Centrale riducendo il flusso di auto nell'ottica di una mobilità eco-compatibile per la connessione periferia-centro, ha spiegato RFI. L'amministrazione si racconta alla città, a Foggia continua il ciclo di incontri tra la Giunta Comunale e gli organi di stampa per raccontare i primi sette mesi di attività di governo, il sesto appuntamento dedicato sia all'urbanistica che al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Antonella Davola. Pubblica illuminazione e rigenerazione urbana, ma soprattutto PNRR e variazioni di bilancio al centro della relazione presentata dall'assessore ai lavori pubblici, urbanistiche e rigenerazione urbana Giuseppe Galasso e dall'assessore al bilancio PNRR e società partecipate Davide Emanuele in occasione del sesto appuntamento del ciclo di incontri tra la Giunta Comunale di Foggia e gli organi di stampa per raccontare i primi sette mesi di governo. Abbiamo parlato di tantissimi argomenti, abbiamo parlato della feruscita del Comune di Foggia dal piano di riequilibrio e tutto quello che ciò comporta a punto di vista di quelle che sono le nuove prospettive di spesa e di nuovi servizi e di efficientamento dei servizi in favore dei cittadini, di quelle che sono tutte le attività connesse al contrasto al ritardo dei pagamenti, lo sviluppo dei progetti in tema di Smart City. Abbiamo fatto un punto anche su quelli che sono lo stato delle società partecipate con l'arrivo di nuovi mezzi per il trasporto pubblico locale di qualche giorno fa e poi abbiamo fatto il punto sullo stato dell'arte in tema di lavori PNRR. Gli aspetti affrontati sono quelli che rappresentano un po' le doglianze principali che abbiamo percepito in città, ad esempio la pubblica illuminazione dove c'è stato un effettivo cambio di passo, traguardiamo l'obiettivo di completare l'efficientamento entro la fine dell'anno, abbiamo parlato anche del Global Strategy e degli interventi di manutenzione stradale che andremo a realizzare da qui a breve, sia con gli stanziamenti ottenuti dalla variazione di bilancio, sia da altre somme che avevamo a disposizione. Altra importante novità è aver visto pubblicato sul sito delle ferrovie di Trenitalia la possibilità di poter acquistare i biglietti da Foggia per due freccia rossa, uno diretto nella linea Foggia-Roma-Milano e l'altro nella linea opposta con la straordinaria opportunità di partire da Foggia alle 6 del mattino e di arrivare alle 9.15 circa a Milano a Roma e poi successivamente a Milano per mezzogiorno e rientrare eventualmente nella stessa giornata alle 23 a Foggia. Andiamo a Trani dove c'è l'ok del CONI per la realizzazione della pista di atletica. Andrea Catino. La città di Trani potrebbe vedere prossimamente la nascita di una struttura sportiva dedicata all'atletica, arrivato all'ok di CONI e FIDAL, l'impianto polivalente finanziato con 1.700.000 euro messi a disposizione dal PNRR potrebbe nascere nella zona Sant'Angelo. Primi a gioire di questa notizia tutti gli sportivi dell'associazione Tommaso Assi che da circa 40 anni si occupa di promuovere la cultura dell'atletica fra bambini, adolescenti ed adulti. Oggi si arriva a un punto intermedio, un ruolo importante. Ha sicuramente avuto anche il consigliere Manatrizio con delega al Cluster 1. Siamo felicissimi per l'atletica. Tommaso Assi, come hai ricordato, sono 40 anni che siamo in campo per questo, in generale nello sport, ma siamo contentissimi e felicissimi soprattutto per la città di Trani e per le famiglie della città di Trani. Perché poi quando si parla di sport si parla essenzialmente di qualcosa che ha un valore sociale perché vuol dire portare a fare sport tanti ragazzi che oggi magari per mancanza, per carenza anche di strutture sportive non si avvicinano ancora al mondo dello sport. Questo progetto prevede l'realizzazione di una pista di atletica a sei corsie con all'interno altri spazi legati anche ad altri sport, ricordo soprattutto il tiro con l'arco piuttosto che il duotron ed altre discipline sportive con anche una parte legata ad una tribuna anche per far sì che i familiari possano godere di questi momenti magici bellissimi. Torniamo nella batte ma andiamo a Barletta, o meglio restiamo nella batte per andare sulla costa barlettana dove il mare è inquinato e questo sta sollevando ovviamente reazioni e soprattutto da parte delle associazioni. Sentiamo. È sconsigliabile bagnarsi in questo flusso d'acqua e il cartello affisso giovedì pomeriggio dal comitato per azione aria pulita nei pressi del canale H nel pieno della litoranea diponente di Barletta nonché nell'area del campionamento inquinato rilevato da Goletta Verde in attesa di analisi congiunte con ARPA che interverrà non prima della prossima settimana l'associazione ambientalista cittadina lancia il monito per bagnanti e turisti. Qualcuno si deve muovere, vista l'inerzia delle istituzioni, vista l'inerzia del sindaco perché poi alla fine voglio dire facendo delle lettere non si fa altro che procrastinare una situazione rischiosa e pericolosa per i nostri bambini. Qui c'è gente che si fa il bagno alla mattina. Allora bastava mettere un cartello si sconsiglia che è quello che abbiamo messo noi di farsi il bagno già si stava un po' più tranquilli, un po' più sereni. Noi questo abbiamo fatto, questo era quello che avrebbe dovuto fare l'amministrazione e lo facciamo noi cittadini. Il tratto interessato è incluso nella spiaggia libera i lidi restano estranei ma attenti sulla vicenda. I lidi non c'entrano niente con queste situazioni perché Goletta ha specificato che ci sono i batteri fecali che derivano chiaramente dal canale nella spiaggia libera. Quindi voglio dire è evidente che questo è il punto. Aspettare fino all'8, aspettare fino al 9 per poi far sì che abbiamo anche una sola patologia collegata a questo è qualcosa che non deve far parte dello scibile umano. Resta in agenda il triplo confronto tra amministrazione comunale, Arpa e Goletta Verde. Se Goletta ha dato una notizia falsa è bene che il sindaco faccia una denuncia a Goletta per procurato allarme ma se non è così è bene che si prendano delle precauzioni. Dall'inquinamento in mare all'abusivismo commerciale a Capurzo che è vicinissimo al capologo regionale a Bari c'è una vera e propria azione commerciale anti-abusivismo ma vediamo di che cosa si tratta nel servizio di Antonella Fazio. Sensibilizzare i cittadini a non acquistare prodotti contraffatti sottolineando le sanzioni amministrative e in alcuni casi penali a cui si espone chi acquista tali prodotti. Si chiama Are Autentiche, l'iniziativa dell'Associazione Autentica di Capurzo nel Barese che punta a promuovere la cultura della legalità e della sicurezza dei prodotti. Quattro cartelli sono stati posizionati in aree strategiche del comune come l'area mercatale, la zona 167, via Madonna del Pozzo e il largo San Francesco. Ogni cartello presenta pittogrammi che illustrano i rischi della contraffazione inclusi danni alla salute, all'ambiente, all'economia e alle imprese locali. Oltre all'installazione della cartellonistica il progetto prevede anche la realizzazione di vetrofanie da esporre nelle vetrine delle attività commerciali presenti nella cittadina. Le misure attuate, secondo gli esponenti dell'associazione, non solo tutelano i consumatori da prodotti contraffatti ma proteggono anche la qualità della catena produttiva e distributiva valorizzando la trasparenza dell'informazione. Lo scopo del progetto è quello di educare il cittadino a non acquistare prodotti contraffatti. Il progetto è molto bello perché alla base di tutto c'è innanzitutto il rispetto della legge, la legalità, poi la sicurezza dei cittadini e c'è la possibilità di informare i cittadini su un tema su cui è difficile trovare informazioni in giro. Bisogna lavorarci e grazie all'associazione autentica stiamo riuscendo sicuramente a dare un buon indirizzo di informazione alla cittadinanza e ai commercianti locali. Un messaggio di una bottiglia lanciata dalle coste greche e arrivata fino a Mola di Bari il servizio di Antonella Fazio. Io non appena l'ho vista mi sono emozionato perché ho pensato che all'interno di questa bottiglia c'erano i sogni c'era la speranza e anche un messaggio di pace. Ha percorso gli oltre 360 chilometri che dalla costa greca di Gumenizza portano a Cozze frazione sud di Mola di Bari una bottiglia in vetro con un messaggio e un disegno con dei cartoon. A firmarla l'Innea una bambina tedesca di appena 4 anni che scrive Caro cercatore ho quasi 4 anni amo lo show tedesco di Esendung mit Dea Maus vorrei avere una risposta a questo messaggio per favore scrivimi una lettera. La bottiglia e il messaggio in tedesco e in inglese sono state trovate da Domenico operatore ecologico 31enne di Mola tra gli scogli di Cozze il ragazzo è stato subito colpito da questo ritrovamento dal gusto retro tanto da portare il tutto all'attenzione del sindaco Giuseppe Colonna che non si è fatto scappare l'occasione non solo per rispondere alla bambina ma anche per invitarla con la sua famiglia nella cittadina costiera del Barese. È stato davvero un bel messaggio un messaggio che ci ha un po' rimandato indietro nel tempo in quest'epoca di social estremo in cui la connettività ci consente di messaggiare con l'altro capo del mondo istantaneamente trovare nel mare un messaggio che è stato inviato più di due mesi fa da un'altra sponda del Mar Mediterraneo è un messaggio bellissimo diciamo che è un messaggio unico e raro. Qualcosa del genere ti era mai capitato? Mai. Finisce così il nostro telegiornale dedicato a Bari, Bante e Foggia ma andremo avanti tra pochissimo con le news da Taranto poi le 14.30 del Tg di Brindisi 14.45 le notizie dal Salento grazie per l'attenzione e arrivederci a tutti rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo grazie a tutti